Il presidente americano non intende ritirarsi dalla corsa presidenziale nonostante una settimana di pressioni e tensioni anche all'interno del suo stesso partito. Non è di la Casa Bianca in una nota ufficiale annunciato che Joe Biden sarà in Texas e Nevada tra il 15 e il 17 luglio. He brought me this, he brought me with tears in my eyes, he brought me this, he brought me with burdens in heaven. Intanto Biden ha partecipato a Philadelphia, in Pennsylvania, a una messa religiosa nella chiesa pentecostale di Mount Airy e a un evento nella capitale dello Stato, Harrisburg, dove ha anche visitato una caffetteria con il governatore locale, Josh Shapiro, e la sindaca Wanda Williams, nell'ambito della sua campagna elettorale, ulteriore occasione per rassicurare i suoi elettori. Gente, conosco ogni mia fibra, so che sembro un quarantenne, ma sono in giro da un po', il Vescovo e io ne stavamo parlando. Compiere 40 anni? Beh, scherzi a parte, sapete che lo faccio da molto tempo e onestamente, verso Dio, non sono mai stato più ottimista riguardo al futuro dell'America, se restiamo uniti, lo dico seriamente. Poi aggiunge Sto per accogliere i paesi della Nato a Washington, li abbiamo riuniti, il mondo ci sta guardando, non è uno scherzo. Il mondo sta guardando all'America, non per portare il loro fardello, ma per guidare le loro speranze.